InterTV, na na, interTV, na 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 E' lo spazio dedicato a chi vuole farti sentire Per i veri tifoti che si vogliono divertire E non vanno allo stadio per fare riste, son signori Ma fiere a testa alta sostengono i loro cori Questa è la tv perfetta, quella che cercavi Sottolineo no alla violenza negli stati Lo sport deve essere pulito il più giusto possibile E l'Inter come sempre resta una squadra imbattibile Volete sapere che è il direttore del programma? Corrado Fumagalli, il vero coach della squadra Tifosi unitevi e spingete la squadra del cuore Perché ogni vittoria ha portato a casa un'emozione InterTV, na na, interTV, na 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 Non perdere questo appuntamento non puoi mancare Seguici sul web oppure sul digitale Una coppia eccezionale, Andrea Bosi e Fumagalli E calcio all'ennesima potenza puoi giurarci Non poteva mancare all'appello il grande Beccarossi E i suoi tempi sul campo considerato tra i più crossi Simona Marchetti del calcio inglese è l'esperta Con Federico Fumagalli la tv sta in vetta I tifosi stanno sugli spalti e aspettano la squadra E per gli sfidanti ci dispiace ogni giornata magra InterTV, tiene a mente questo nome InterTV, trasmettiamo passione InterTV, na na, interTV, na 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 InterTV InterTV